Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qual è la sua esperienza nell'uso di questi social network? Cioè lei li utilizza all'interno del suo lavoro? Quali saranno i prossimi passi nel futuro nell'utilizzo di questi social network? E quello che sarà secondo lei l'effetto sugli italiani? Risponde subito. Sì, provo ad essere rapidissimo. Sì, li utilizzo, assolutamente, non potrei farne meno, diciamo, seriamente. Se non altro sono un appassionato di Twitter e quindi lì ci casco. Cerco di utilizzarli, come provavo a raccontare prima, nel modo, diciamo, più equilibrato possibile, soprattutto informando. Informando di ciò che faccio costantemente. Abbiamo fatto un lavoro, secondo me, molto importante anche dal lato del Ministero, sostanzialmente portando il Ministero delle Politiche Agricole ad essere tra i ministeri che più utilizzano il sistema dei social. Da Twitter a Facebook agli altri, con una innovazione profonda anche del sito e quindi ci siamo molto buttati, diciamo, su questo fronte. E devo dire che le risposte che otteniamo dai nostri utenti fondamentali, che poi sono gli agricoltori, i coltivatori, le imprese agricole, sono molto interessanti. Diciamo anche una cosa, il mondo agricolo agroalimentare, quello agricolo in particolare, dentro di sé ha il massimo della conservazione, il massimo dell'innovazione, anche nell'utilizzo di questi strumenti. C'è gente che fatica, ovviamente, a rapportarsi con questi strumenti, ma vi posso assicurare che ci sono straordinari imprenditori agricoli che utilizzano i social per fare business, impresa, in maniera straordinaria. Noi, spesso e volentieri, le intuizioni più efficaci nel rapporto tra questi strumenti e l'esperienza agricola italiana le abbiamo avute da imprenditori agricoli. In particolare, devo dire, nell'esperienza vitivinicola. Mi fermo. Buongiorno, sono Ilenia Salinaro, io studio invece la triennale di comunicazione, appunto, stava riprendendo la domanda che volevo farle. Essendo in un territorio pavese e quindi un territorio nella quale sono molto importanti i vini ed è appena finita la vendemmia, volevo appunto chiederle come si può coniugare la produzione locale con la globalizzazione. L'esperienza vitivinicola italiana, anche quella di questi territori, ci insegna che è assolutamente possibile stare radicati nel territorio e avere la testa veramente nel mondo. Guardate, oggi le cantine vitivinicole italiane sono un laboratorio formidabile di questo lavoro. Gente che ha innovato dopo la crisi radicale del vitivinicolo italiano degli anni Ottanta, scandali e problemi strutturali dove sembrava che il vino italiano fosse praticamente all'anno zero e non avesse più futuro, da lì hanno ripreso con una capacità di innovazione, di investimento sulle tecnologie, sia di produzione che di comunicazione, straordinarie. Per dirvene una, noi il credito d'imposta per l'utilizzo dell'e-commerce per le imprese agricole che abbiamo inserito in quel progetto, campo libero a cui si accennava prima, ce lo siamo inventati perché alcuni imprenditori vitivinicoli italiani ci hanno detto, scusate se volete darci una mano, stiamo investendo da tempo su piattaforme di e-commerce autonome, cioè le cantine che si fanno, i propri siti e-commerce per vendere in giro per il mondo, dateci una mano su quello. Quindi in realtà lì io ho avuto la prova provata che la realtà spesso è molto più avanti di tante nostre teorie, quindi potenzialmente lì ci sono strumenti formidabili di relazione con il mondo intero. E sarà sempre più così, perché se guardate tutte le ricerche, ad esempio, e tutte le tendenze nell'utilizzo dell'e-commerce, in particolare per acquistare da casa prodotti agroalimentari, beh, adesso magari siamo ancora quantitativamente bassi, ma potenzialmente la curva è a salire in modo vertiginoso. In particolare guardate a come alcuni mercati, non solo gli Stati Uniti, alcuni mercati mondiali stanno radicalmente virando sull'utilizzo di questi strumenti. Quindi lì c'è un potenziale clamoroso che secondo me può sopperire in parte, non in tutto, ad una storica mancanza del sistema agroalimentare italiano, che è quello, diciamo, del suo deficit sul versante logistico distributivo. Per capirci, noi non abbiamo, come i francesi o come i tedeschi, ahimè, organizzazioni strutturate sul versante della logistica e della distribuzione mondiale. Possiamo provare a lavorare, magari velocemente, su questi strumenti per sopperire almeno una parte di quel gap. E quello che ha fatto il vitivinicolo italiano in questi anni è la prova approvata che si può fare. Buongiorno Ministro, mi chiamo Alessandro De Chirico e sono del secondo anno della magistrale di CPM. Concordo con lei riguardo l'e-commerce, la mia tesi triennale è stata su questo, quindi sono molto contento delle sue parole. Io però le volevo chiedere, circa il settore agricolo, che è un settore che presenta, diciamo, naturalmente dei picchi lavorativi in periodi ristretti dell'anno, come si può coniugare questa, diciamo, tipicità del settore agroalimentare con gli investimenti sul lavoro? E come invece la ricerca universitaria si colloca all'interno del settore agroalimentare? Allora, la ricerca universitaria e più in generale la ricerca, guardate, è un fronte fondamentale per il sistema agroalimentare italiano. E non lo dico in termini retorici, dico che noi abbiamo il dovere di impostare una strategia nuova che investa moltissimo sulla ricerca in campo agricolo-agroalimentare, superando, secondo me, in barba a quello che dicono anche alcuni docenti universitari di cui ho il massimo rispetto, ma che non condivido nelle idee, superando anche un po', diciamo, discussioni che abbiamo vissuto in questi anni e che traducono questo rapporto semplicemente solo sul tema OGMC o OGMNO. Io credo molto a questa cosa. Cioè, la prova di questi 18 mesi al Ministero ci dice che noi abbiamo la possibilità di sviluppare delle leadership sul versante della ricerca agricola-agroalimentare se facciamo l'Italia. Cioè, se posizioniamo anche il nostro sistema di ricerca su una frontiera che non è quella della discussione che abbiamo ereditato fino a qui, per cui tutto si semplifica nello scontro tra pro-OGM e no-OGM. Ci sono, ad esempio, ricerche scientifiche in campo agricolo-agroalimentare dove noi siamo leader in Europa che sono andate già oltre questa discussione. Quindi il mio compito è portare alla massima potenza questa via facendo proprio delle cose concrete. Ad esempio, utilizzando alcune tecnologie e alcune, diciamo, ricerche in campo genetico sul versante vegetale oltre la questione della transgenesi. Adesso poi sono questioni molto tecniche ma è per dire che anche qui non guardo al passato e non mi interessa il no per il no. Mi interessa posizionare, diciamo, l'Italia nel suo complesso sui punti di forza maggiormente distintivi per un Paese che ha un territorio come il nostro e che non può certo essere assimilabile alle praterie argentine o a quelle statunitensi o alla Cina o a non so cos'altro e che ha nella qualità nella distintività il suo tratto vero anche di competitività nel mondo. Cioè a noi ci riconoscono non perché facciamo la soia come gli americani ci riconoscono perché facciamo le DOP e le IG che poi vanno in giro per il mondo. Quella leva lì a proposito di comunicazione in un tempo in cui tutto rischia di essere sostanzialmente identico in un tempo in cui l'omologazione è come dire un rischio possibile essere distintivi cioè avere precisamente un'identità è un elemento di competitività o no. Io ovunque vado trovo la risposta sì investi lì. Ecco perché ad esempio la ricerca va gestita coerente con questa finalità perché se no le due cose rischiano di essere divaricanti e noi non possiamo permetterci. Buongiorno io sono Elena Vespa al terzo anno della Triennale e vorrei aprire l'argomento Expo chiederle di fare un bilancio visto che è già la chiusura tra poco meno di un mese e chiederle se l'affluenza che c'è stata è sinonimo di successo e poi una curiosità quali sono i tre padiglioni che si sentirebbe di consigliare che ha trovato più interessanti. Ah beh sui tre posso dirne due Palazzo Italia e il padiglione zero che vi consiglio perché credo chi l'ha visto lo sa rappresenti alla massima potenza il contenuto moderno che l'Italia ha offerto al mondo con questa Expo. veramente ve lo consiglio di cuore il terzo non lo dico perché se no diventa un problema per noi diplomatico a parte questo io sono molto contento e non uso mezzi termini di come è andata e sta andando Expo perché proprio in ragione di quello che dicevamo prima eravamo di fronte a un problema oggettivamente eravamo di fronte al fatto che l'Italia viveva Expo come un problema anche per ragioni vere è diventata un'opportunità straordinaria sarà che io l'ho vissuto per cinque mesi full time con le tende lì e per cui l'ho vissuto veramente in tutto e per tutto nella sua capacità di parlare al mondo così come nella sua capacità di parlare agli italiani e di farli contenti orgogliosi di un'occasione che non si vedeva da tempo l'ho detto prima ma la 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 più bella il risultato più bello per noi è guardare i volti stremati dei visitatori che escono da lì contenti e orgogliosi di quello che hanno visto e c'è della gente tanta che ti ferma semplicemente e ti dice guarda sono venuto qui con un po' di pregiudizi ne esco con tanto orgoglio quindi per me siamo di fronte al davvero come ci dicevamo prima che partisse Expo è in tutto e per tutto la metafora del cambiamento necessario per questo paese perché dentro di sé tu hai misurato i problemi i limiti gli errori ma anche le straordinarie potenzialità di un paese che appena appena si sente forte di alcuni contenuti che può presentare al mondo poi viene riconosciuto voi non avete idea di quanto effetto Expo c'è nella credibilità del paese fuori confine quando parli diciamo fammi dire con le classi dirigenti di quei paesi noi siamo stati recentemente a New York a presentare la carta di Milano c'è capitato di incontrare diverse delegazioni che hanno partecipato ad Expo ma tutti riconoscono all'Italia di aver avuto intanto un'intuizione formidabile scegliendo quel tema che è una cosa che noi diamo per scontato per noi è scontato che l'Expo si facesse su nutrire il pianeta e energie per la vita andate a vedervi a proposito di comunicazione come hanno utilizzato i contenuti le recenti esposizioni universali cioè su quali titoli hanno fatto la storia di quelle esposizioni noterete una distanza fatemi dire con un po' di orgoglio abissale tra la forza propositiva di questa Expo e quelle recenti da Saragoza da Nover la stessa Shanghai non aveva un contenuto aveva un paese era la grande Cina che si presentava con le Olimpiadi e con l'Expo ma non aveva un grande contenuto io davvero con orgoglio dico l'Italia con tanta fatica però è riuscita anche ad ammodernare l'esposizione universale nel tempo in cui stiamo quante volte ci siamo sentiti dire ma che senso ha un'esposizione nel 2015 quando basta un click per vedere tutte le innovazioni vero probabilmente basta un click per vedere quasi tutte le innovazioni anche in campo diciamo agricolo agroalimentare ma fa una bella differenza animare per sei mesi un confronto tra 140 paesi che hanno il dovere di venire in un luogo e di mettersi in discussione raccontando tecnologie saperi confrontandosi facendo scattare un meccanismo che è molto più che un click a proposito di era digitale e di fisicità anche diciamo delle occasioni quindi io sono molto contento e naturalmente siccome siamo al 5 di ottobre e mancano ancora un po' di giorni diciamo che il giudizio definitivo lo diamo il primo di novembre e invece per per quanto riguarda l'ereditarietà della fisica delle strutture che cosa accadrà esattamente in quell'area ci stiamo lavorando è ovviamente un lavoro complesso come quello di prima io credo che ecco il punto che posso dire che noi dobbiamo usare bene quell'area strategicamente come paese per rafforzare il nostro posizionamento esattamente su quei contenuti innanzitutto credo molto in un investimento che lì provi a decifrare una idea forte sul versante delle tecnologie dell'innovazione della conoscenza perché è lì che noi possiamo fare la differenza anche perché la storia di Expo ci dimostra che abbiamo delle leadership da affermare su questo versante quindi secondo me faremo bene a stare diciamo nel solco di quel titolo naturalmente sapendo che quando devi animare non per sei mesi ma sempre un'area di un milione di metri quadrati praticamente in città hai da mettere su un'operazione anche sul piano proprio della sostenibilità che deve durare nel tempo quindi bisogna essere seri e costruire anche delle interazioni ad esempio pubblico-private efficaci che non ci permettano diciamo tra qualche tempo di vedere un buco in mezzo a una città clamorosa come Milano bene adesso concludiamo con un'ultima domanda in questo caso da un dottorando di un nostro dottorato il dottorato di diritto pubblico giustizia penale internazionale e poi lascerò la parola al magnifico rettore per i saluti finali buongiorno mi chiamo Damiano Fuschi come ha detto la professoressa mi occupo di diritto pubblico comparato vorrei porre l'accento sulla carta di Milano che si configura ad essere un'eredità ideologica di Expo è stata sottoscritta da migliaia di persone e recentemente la settimana scorsa lei l'ha presentata alle Nazioni Unite le chiedo come è stata accolta dall'Assemblea Generale ed inoltre come pensa che questo manifesto ideologico potrà avere reale effettività e non rimanere relegato al ruolo di manifesto ideologico dell'esperienza di Expo e dando reale effettività al diritto al cibo connesso a uno sviluppo sostenibile grazie questa è una domanda cruciale posso rispondere così intanto carta di Milano ha già avuto un effetto nella misura in cui i 17 obiettivi nuovi obiettivi del millennio votati dall'Assemblea Generale proprio una settimana fa sono esattamente se volete figli anche dell'esperienza che carta di Milano ha promosso se voi andate a leggere i 17 nuovi obiettivi del millennio c'è una connessione profonda tra responsabilità identificate nella carta di Milano e quegli obiettivi quindi io dico innanzitutto un primo successo l'Italia con Expo ha contribuito a rendere evidente che da qui al 2030 la sfida della fame zero è possibile se si ingaggiano le responsabilità non solo delle istituzioni ma delle imprese dei cittadini in una dimensione che è quella diciamo di multi responsabilità che abbiamo decifrato con la carta poi rivendicherei anche con un po' di orgoglio il fatto che come dicevo prima questa è la forse unica Expo della storia recente che ha un contenuto politico forte ce l'ha ne abbiamo parlato giustamente qualcuno ci ha anche criticato dicendo si può fare di più ma viva Dio la critica è la palese dimostrazione che stavamo esattamente sul terreno giusto cioè quello del contenuto politico e il diritto al cibo come grande metafora della responsabilità di questo tempo non ne troverete di Expo che hanno ingaggiato queste discussioni nella storia recente e io rivendico il fatto che noi abbiamo fatto questa scelta con tutti i rischi del caso perché poi ovviamente quando fai una carta che abbiamo voluto non come atto intergovernativo ma come grande strumento di global citizenship quindi di rapporto diretto col cittadino quando fai quel lavoro lì c'è chi ti dice ma non basta è vero ma è anche vero che Expo non è la piattaforma diplomatica formale che può fare ciò che ad esempio si può provare a fare in sede europea o in ambito ONU quindi io dico abbiamo contribuito a sviluppare questo lavoro in chiave nazionale questo lavoro sta producendo dei fatti ve ne dico due il Parlamento sta discutendo e spero chiuda rapidamente la legge nazionale la prima legge nazionale per la tutela del suolo agricolo in questo paese è ancora una battaglia aperta ma se ce la facciamo quella legge sarà figlia della Carta di Milano figlia dell'impegno che abbiamo avuto ve ne dico un'altra lo sa benissimo Chiara Scuvera il Parlamento sta discutendo la legge nazionale per la lotta allo spreco alimentare con alcuni strumenti di innovazione di contrasto allo spreco alimentare non solo in famiglia ma soprattutto nei cicli produttivi dove noi sprechiamo ancora un sacco di commodity e più in generale di cibo se come spero riusciremo nei prossimi mesi a chiudere questa partita sarà un risultato di Expo abbiamo approvato la legge per l'agricoltura sociale è un punto d'orgoglio per questo paese una delle più moderne leggi di intreccio virtuoso tra sociale e agricoltura e stiamo facendo tutta una serie di cose vorrei dire che anche le scelte del governo ad esempio sul versante dell'etichettatura sono figlie del fatto che ci siamo immersi in pieno nella responsabilità che Expo ci dà quindi ci sono delle cose interessantissime se volete l'ultima e chiudo è il lavoro strepitoso che secondo me abbiamo fatto e si può ancora sviluppare sul versante educativo cioè il fatto che ci siano stati e ci siano migliaia migliaia saranno milioni alla fine di Expo di studenti italiani arrivati in Expo dopo avere studiato ragionato riflettuto ricercato sui temi di Expo dai bambini della scuola materna alle università ha prodotto forse la più gigantesca operazione degli ultimi anni di educazione civica in questo paese la più gigante la più la più imponente perché ha portato tanti ragazzi io li ho visti e li vedo tutti i giorni nei padiglioni a vivere l'esperienza da visitatori consapevoli non solo come una gita per l'amor di Dio anche ma come un vero percorso educativo di formazione escono con più domande che risposte ma quello è il suo bello quindi insomma tutte queste cose secondo me ci devono davvero far sentire orgogliosi perché veramente noi abbiamo fatto un bel lavoro ed è merito di tutti bene allora grazie agli studenti grazie al ministro grazie a tutti